Menzo, ma come osservatore, per quale squadra di calcio lavori? Questa è solo una delle tantissime domande che mi viene posta giornalmente sui miei social e nel video di oggi cercherò di rispondere a questa e a tante altre domande, curiosità, dubbi legati a questa professione e al mondo dello scouting. Partiremo dalle basi e quindi come ci si approccia a questo lavoro, i corsi da fare, ma parleremo anche di quanto si guadagna e nello specifico vi parlerò della mia esperienza con la parida IVA e con FiscoZen, ovvero un servizio che se si ha intenzione di aprire o si ha già la parita IVA può fare la differenza e che passando dal link in descrizione può garantirvi una consulenza gratuita che può chiarirvi le idee sulla vostra situazione fiscale. Torneremo su questo argomento più avanti nel video, vi parlerò anche della parte pratica dell'osservatore, delle relazioni tecniche da fare sui calciatori e molto molto altro, quindi mettetevi comodi perché abbiamo tantissimo di cui parlare. Prima di addentrarci all'interno di questo video però ci tenevo a dire che questo progetto è appunto organizzato da un ragazzo che si sta approcciando per la prima volta al mondo dello scouting che può darvi già dei consigli utili ma che non è assolutamente ancora un professionista navigato, quindi non ho la presunzione di venire qui a insegnarvi un mestiere con così poca esperienza. Semplicemente le mie parole possono essere utili per chi vuole avvicinarsi al mestiere, anche perché quando volevo avvicinarmi io nessuno mi ha mai dato una mano, quindi questo potrebbe essere un video interessante per voi. Per chi non lo sapesse io ho un profilo Instagram dedicato a tutti quei calciatori che seguo, che osservo, che mi impressionano e all'interno di questo profilo Instagram, se vi va venite a me a seguire, porto proprio le analisi dedicate a questi calciatori. Ma la cosa interessante è che proprio in questa sessione di calciomercato molti di questi ragazzi, molti di questi giovani si sono trasferiti, hanno cambiato squadra e hanno dato un upgrade importante alla propria carriera. Proprio perché tantissimi di questi ragazzi si sono trasferiti, tante altre domande sui miei social sono arrivate. Menzo, ma perché non vai a lavorare per una squadra di calcio? Ragazzi, ci arriviamo, andiamo con ordine perché veramente è successo di tutto. Prima devo rispondere ad altre domande molto, molto importanti, altrettanto importanti, ovvero come ci si approccia al mondo dell'osservazione calcistica. Mi sono avvicinato a questo lavoro perché sono un appassionato di calcio, e non solo di calcio, ma anche di paesi nordici, e io osservo principalmente in quei campionati. In più, non vuole essere presunzione, ma credo, penso, magari mi sbaglierò in un futuro, ma penso di avere l'occhio giusto per poter fare questo mestiere con determinati risultati. Ed effettivamente proprio quello che è successo in questa sessione di calciomercato ne è la risposta, ma è già successo tantissime altre volte. Sicuramente potrà essere anche un caso, ma io sento dentro di me di poter fare questo mestiere. Sì, ok, Menzo, ma come si diventa osservatori? Cioè, nel senso, ma io da oggi al domani come faccio a diventare uno scout? Sì, sì, adesso ne parliamo, ragazzi. Arrivo, eh. Aspettate un secondo. Facciamo un po' di chiarezza perché in tantissimi venite da me a dirmi Menzo, hai fatto il corso della FIGC perché senza di quello non puoi lavorare nelle squadre di calcio. No, non è così, ragazzi. Il corso della FIGC non è obbligatorio. Sicuramente l'attestato che rilasciano è di una notevole importanza, ma non è obbligatorio come per esempio prendere il patentino dell'allenatore è obbligatorio se si vuole allenare a certi livelli. Per l'osservatore non è obbligatorio fare il corso della FIGC. Come detto, il corso della FIGC rilascia un certificato importante, ma è anche molto costoso. Quindi se qualcuno non ha la possibilità economica, non riesce a farlo. Anche io stesso ho preferito puntare su altri tipi di corsi. Ci sono tanti corsi validi e altri no. Ciò che mi preme dirvi è fate le vostre dovute ricerche. Fortunatamente siamo in un'era geologica dove potete controllare su internet, controllate le recensioni, controllate online la gente cosa dice di quel corso che avete intenzione di fare e poi prendete le vostre decisioni. Il primo corso che ho fatto è stato quello di Emi Scouting che ti dà una buona base per approcciare il lavoro da osservatore. Ci sono diversi tipi di corsi, però secondo me Emi è un personaggio assolutamente competente che ha avuto esperienza nel campo e che ti dice le cose come stanno. Quindi una prima base, un primo punto di partenza può essere il corso di Emi Scouting. Ce ne sono tanti altri. Io ne ho fatti in lingua straniera, in lingua italiana. Ci sono i corsi di Roy Italia. Ci sono dei corsi addirittura organizzati da alcune squadre di calcio. Per esempio, l'Ajax e il PSV Eindhoven creano il loro corso da osservatore. È chiaro che costano un po' di più quelli creati dalle squadre di calcio, però possono essere interessanti perché vi fanno capire il metodo di lavoro di queste squadre che storicamente sono famose per un grandissimo lavoro di scouting. Chiaramente per prendere parte a questi corsi serve la maggiore età. E mezzo, quindi chi non è maggiorenne cosa può fare? Non vi preoccupate perché tra poco parlo anche per voi e parlo di voi perché c'è tanto che potete fare. Passiamo ad argomenti un pochettino più cicciotti e andiamo a rispondere alla domanda chi è l'osservatore calcistico. È una domanda a cui tengo molto perché negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche mi è sembrato questo un mestiere che venisse un po' travisato. Fare l'osservatore non è quello che si mette sul divano a guardare le partite, ma non è nemmeno quello che va allo stadio a guardare le partite. È bello comodo. No, non è questo ragazzi. L'osservatore fa molto altro. Il suo lavoro è importante, è fondamentale per una società. Partiamo dal presupposto che esistono tanti tipi di osservatori. Innanzitutto c'è il capo osservatore che gestisce un po' tutto l'organico degli scout e non solo. Gli osservatori possono essere veramente di molti tipi. C'è quello magari che ha esperienza regionale e quindi segue esclusivamente una regione, c'è chi segue esclusivamente una nazione, ma ci sono anche gli osservatori che vanno a seguire i calciatori in prestito della società per vedere come crescono. Ci sono gli osservatori che vanno a osservare i calciatori della squadra avversaria, quella che andranno a sfidare, per capire su quale calciatore bisogna concentrarsi maggiormente magari in situazioni difensive. A volte capita che una squadra si affidi a un osservatore di quella nazione per osservare determinati tipi di calciatori. Vi faccio un esempio. Il Forlì vuole reclutare calciatori dalla Lettonia. A quel punto non manda un osservatore in Lettonia, ma semplicemente cerca contatti di osservatori in Lettonia che possa avere comodità nell'osservare determinati tipi di calciatori. Quindi voi, per esempio, potreste lavorare per una squadra estera che è interessata al mercato italiano. Perché l'osservatore ha un compito fondamentale, raga? L'osservatore deve scoprire il talento. Chiunque è in grado di vedere un calciatore talentuoso, il lavoro dell'osservatore sta nello scoprire il talento quando non è ancora visibile o semplicemente nel capire quale calciatore e perché può far parte della squadra per cui lavori. A volte un'osservazione può durare mesi, anni, stagioni. L'importante è avere chiaro per quale realtà si sta lavorando. Se lavorate per una squadra di serie D e proponete al vostro capo osservatore un calciatore che vale milioni ed è già seguito magari dal Valencia, il capo osservatore probabilmente vi dirà che quel profilo non va bene per la vostra società. La segnazione di un osservatore può portare a tre strade. La prima, rinforzi il tuo organico che va bene sempre e comunque. Trovare un calciatore che rende la tua squadra più forte è una cosa importante. La seconda strada ti porta a fare plus valenze. È un calciatore che magari non è ancora adatto per la prima squadra, però ha già calcato qualche campo importante, ha preso valore, ma magari la società non ci punta più di tanto. Bene, si fa plus valenza su questo calciatore e guadagnare dei soldi non è mai un male, anche per le società. La terza strada, ragazzi, è prendere un granchio, che sarebbe la situazione da evitare. Perché chiaramente porti a spendere soldi e a non rinforzare l'organico. Cosa molto importante quando si osserva, e ve lo dico perché io ho fatto un po' fatica all'inizio a separarmi da questa cosa qui, non bisogna farsi trascinare dalle emozioni. Quando voi vedete un calciatore che vi piace, dovete comunque cercare l'oggettività nell'osservazione. Ok, vi piace, va bene, ma cerchiamo di vedere il calciatore a 360 gradi. Punti negativi, punti positivi. Magari quel calciatore effettivamente ha qualcosa che a voi piace, ci mancherebbe, però nel contesto forse della vostra squadra non è utile, quindi la società non può spendere soldi per quel calciatore, proprio perché non è utile nel contesto della squadra. Quindi avrete capito cosa fa un osservatore. Segnala ai calciatori che possono portare dei benefici alla propria realtà. Un tempo fare l'osservatore voleva dire andare allo stadio, e restare praticamente in incognito, senza farsi riconoscere. Ecco, forse negli ultimi tempi questa cosa qui è cambiata. Adesso anche l'osservatore a volte cerca di stringere qualche rapporto per cercare di avere informazioni, più informazioni possibili su un determinato tipo di calciatore. L'osservatore comunque ha un capo scout dal quale prende ordini. E a volte questo capo scout proprio indica la partita da andare a osservare. E l'osservatore chiaramente ha due metodi per fare scouting. Il primo è da remoto. È possibile che ti venga segnalata la partita da vedere e che ti venga dato addirittura un link per vederla da remoto. Lo scouting da remoto significa semplicemente osservare la partita dietro lo schermo di un PC, televisione, smartphone, qualsiasi cosa. Considerate che un ramo dello scouting da remoto è anche la visione di filmati tramite piattaforme specializzate come per esempio Yscout, che fornisce una copertura totale su ogni tipo di calciatore quando fa una scivolata, quando tira verso la porta, quando fa una rimessa laterale. Da questo punto di vista tante caratteristiche dei calciatori si possono notare. Ma è chiaro che lo scouting da remoto lascia qualcosina a desiderare. Perché la seconda ramificazione dello scouting è lo scouting sul campo, dal vivo. Però per parlarvi di questo argomento, se mi date un secondo e me lo permettete, ci terrei a spiegarvelo da un altro luogo. Ci vediamo fra poco. E ci siamo spostati in Norvegia, più precisamente a Bergen. Sta per iniziare la partita Bran-Bodoglint, fondamentale per il campionato. Ma cos'è fondamentale? È fondamentale lo scouting sul campo. Osservare i calciatori dal vivo ti dà un'esperienza totalmente diversa. Riesci a capire meglio la forza, la velocità, la riesci a sentire quasi. Ma soprattutto quello che mi piace a me dello scouting dal vivo è l'aspetto psicologico. Dal campo riesci veramente a vedere come si comporta un calciatore. Riesci veramente a capire il rapporto che ha con i compagni, anche nei momenti magari più concitati della partita. Riesci a capire qual è il suo rapporto con il mister, con soprattutto il direttore di gara. È magari un calciatore che dalla televisione non sembra particolarmente leader o magari un chiacchierone dal campo. Chiaramente quando vedi una partita dal vivo riesci a comprendere questo aspetto. La cosa che mi piace anche dello scouting dal campo, ed è questa soprattutto una cosa che dalla televisione non riesci a comprendere, è la questione del riscaldamento. Come un calciatore entra in campo è fondamentale poi chiaramente per il proseguimento della partita. E poi soprattutto un aspetto fondamentale da ex portiere verso l'allenamento del portiere. Ho fatto tante volte dei brutti riscaldamenti, che poi hanno rispecchiato delle prestazioni in campo non positive. Quindi è importante vedere come un portiere si approccia al riscaldamento, ma non solo chiaramente un portiere, anche gli undici titolari più i panchinari, mettiamoceli. Dal punto di vista dello scouting, cosa fare in queste situazioni? Solitamente io quando vado a vedere tornei di ragazzi più giovani, la prima cosa che faccio è cercare la distinta, e quindi andare a trovare, a cercare le squadre titolari, le formazioni titolari. In ambienti come questi, non ti danno la distinta, abbiamo le applicazioni che ci dicono le formazioni ufficiali, e quindi chiaramente vi tirate giù le formazioni ufficiali e iniziate a prendere i vostri appunti. La questione principale è prendere appunti in questo momento su tutto, a meno che voi non abbiate delle indicazioni precise da parte magari dei vostri capi o da parte di altre persone. È importante prendere indicazioni sugli aspetti tattici delle due squadre, o se per iniziare volete concentrarvi semplicemente su una squadra e dopo andare nel dettaglio su calciatori. È chiaro che non potete prendere appunti su ogni singolo calciatore della partita o della squadra. Prendete i calciatori che più vi interessa studiare e scoprire e iniziate a prendere appunti su questi calciatori. Che tipo di appunti? Anche qua, appunti di tipo tattico, come si muove in campo, rientra difensivamente, resta su. Come si muove in zona offensiva se è un attaccante, come si muove difensivamente con la linea, se è un difensore, se è un terzino. Ma non solo, bisogna prendere in considerazione anche gli aspetti fisici, gli aspetti atletici e anche aspetti psicologici. Quindi come vi dicevo prima, come si comportano in campo i calciatori che prendete in considerazione. Ciò che volete sapere quanto guadagna un osservatore, ma anche qui bisogna tenere conto di diversi aspetti. Il tuo livello di preparazione, per chi lavori, che tipo di contratto ti hanno offerto e soprattutto se ci sono esclusività o rimborsi spese nel tuo contratto. Lo stipendio mensile può variare da migliaia di euro a centinaia di euro. È chiaro che se non siete dipendenti di nessuna squadra o di nessuna agenzia, sarete dei liberi professionisti e avrete bisogno di una partita IVA per gestire le vostre finanze. E chiaramente per pagare le tasse, perché secondo voi cosa fate? Non le pagate le tasse, siete furiosi. È sempre complicato quando si parla di tasse, non c'è niente da fare. Anch'io nei primi anni ho avuto qualche difficoltà con questo argomento. Fortunatamente però in questi anni sono nati dei servizi che ti rendono la vita molto molto più semplice. Come per esempio Fiscozen, che ha permesso la realizzazione di questo video e mi supporta nella gestione della partita IVA. Fiscozen è un servizio online per la gestione della partita IVA, che ti offre un commercialista specializzato nella tua attività, che puoi contattare costantemente per messaggio, per email, lui ti risponderà sempre. Vi offre inoltre una piattaforma dedicata all'interno della quale potete gestire la vostra fiscalità, emettere fatture elettroniche e soprattutto vedere il prospetto delle tasse che andrete a pagare. Questa cosa mi ha sempre messo un'ansia incredibile, perché non sapevo mai effettivamente quante tasse dovevo pagare. Grazie a Fiscozen adesso lo so. In più potete fare anche tranquillamente la dichiarazione dei redditi. Fiscozen ti supporta sia che tu abbia già una partita IVA, come è stato per il mio caso, sia che tu debba aprirla da zero. Quindi vi ricordo che dal link in descrizione potete prenotare una consulenza gratuita con un commercialista specializzato di Fiscozen e non solo, perché trovate anche uno sconto di 50 euro in caso vogliate affidare la vostra gestione fiscale a Fiscozen. Link in descrizione. Ok, partita conclusa. Cosa fare allora con gli appunti che avete preso durante la partita? Perché io già me lo immagino il vostro quadernino degli appunti tutto incasinato, senza un nesso logico. Non vi preoccupate ragazzi, anche il mio quadernino degli appunti è così incasinato. La prima cosa da fare è, una volta rientrati in macchina, una volta arrivati a casa, riordinare il quadernino degli appunti. Dovete far sì che il vostro tempo passato allo stadio non venga sprecato. Dovete aver chiaro tutto quello che è successo durante la partita e soprattutto dovete aver chiaro tutte le caratteristiche del calzatore che avete osservato. E quindi solamente grazie al riordino degli appunti questo può essere possibile. Una volta con gli appunti riordinati dovete scrivere la scheda tecnica del calzatore. Che cos'è la scheda tecnica? È un documento fondamentale per il mestiere dell'osservatore calcistico. All'interno della scheda tecnica dovete scrivere tutto ciò che avete osservato, tutto quello che secondo voi è fondamentale. Anche perché grazie a una buona scheda tecnica si può capire velocemente di che tipo di calzatore si sta parlando. Ma soprattutto la scheda tecnica aiuta poi la società a decidere sugli acquisti da fare. Capite da voi quanto sia importante questo documento. Io solitamente una volta conclusa l'osservazione mi metto al computer e inizio a creare la mia scheda tecnica. Scheda tecnica che divido in diversi punti. La prima parte è dedicata ai dati generali del ragazzo che sto osservando. Nome, cognome, altezza, peso, età, perché squadra gioca, se ha presenze nazionali, dove ha giocato nelle giovanili, se ha un procuratore e chiaramente anche le partite in cui l'ho osservato. Se l'ho osservato dal vivo o l'ho osservato da remoto. È importante anche specificare la posizione in cui gioca il calzatore e magari anche il sistema di gioco. Successivamente arriva una parte descrittiva dedicata agli aspetti fisici e atletici del calzatore. Lì si prendono in considerazione velocità, accelerazione, forza fisica e tanti altri aspetti che non posso stare qui chiaramente a descrivervi completamente. A questa parte segue una parte dedicata alla qualità tecnica del calciatore e quindi si vanno a descrivere gli aspetti dedicati al passaggio, al tiro, ma non solo perché gli aspetti importanti da descrivere cambiano da ruolo a ruolo. Successivamente a questa parte ci sono due sezioni dedicate all'aspetto tattico, come si muove in campo, come vi avevo già detto prima, e una parte dedicata all'aspetto psicologico. Successivamente avviene la fine della scheda tecnica. Lì potete lasciare un commento dedicato a quello che pensate del calciatore che avete osservato. E se secondo voi è un calciatore da continuare a seguire, da tenere d'occhio, da acquistare o da lasciare perdere. Quindi torniamo un po' al discorso che avevo fatto in precedenza. Ma i minorenni cosa possono fare se ancora non possono iscriversi a nessun tipo di corso? Ragazzi, potete fare esattamente questo. Potete iniziare a fare esperienza da questo punto di vista. Iniziate a prendere appunti sui calciatori che osservate, scrivete tutto quello che vi capita a tiro. E con l'esperienza capirete quali sono gli aspetti importanti da descrivere all'interno di una relazione tecnica o quali sono quelli da lasciar stare. Ma torniamo all'argomento principale di questa esperienza, alla domanda con la quale ho aperto questo video. Per quale squadra di calcio lavoro? Con la morte nel cuore vi dico che non lavoro per nessuna squadra di calcio. Ho avuto contatti con realtà di serie C e anche qui vicino alla mia zona. Sono tutti contatti che mi terrò stretto ma che per il momento non mi hanno portato a nulla. Ero molto vicino a firmare il mio primo contratto ma le cose non sono andate bene. Non per questo mollerò. Sì, veramente avevo chiesto una piccola modifica al contratto e poi sono spariti. Però bisogna anche tutelarsi. Sto comunque mandando la mia candidatura, il mio curriculum a tutte le realtà possibili e immaginabili. Perché questo è quello che voglio fare. Questo è il mio obiettivo. Io voglio poter essere utile a una realtà calcistica. Io voglio che le mie segnalazioni portino dei vantaggi alla squadra per cui lavoro. Alla realtà per cui lavoro. Ma perché vi parlo di realtà e non solamente di squadra di calcio? Beh perché l'osservatore non è obbligato a lavorare solamente per squadra di calcio. Non è obbligato ad essere il dipendente di una squadra di calcio. Un osservatore può lavorare per aziende, può lavorare per agenzia, può lavorare per un procuratore, può fare il freelancer. Insomma l'osservatore può essere un dipendente ma può essere anche un lavoratore con la partita IVA e quindi un libero professionista. Anche qui ho avuto diversi contatti, diverse esperienze. Per esempio ho lavorato per Delflix. Ho fatto esperienza grazie a Delflix. Ovvero una piattaforma scouting che in questo momento si sta specializzando sui talenti dell'Africa. Ma non solo perché ho avuto contatti anche con altre agenzie che si occupano di gestire gli interessi dei calciatori. Chiaramente ogni calciatore ha il procuratore. Ecco anche i procuratori hanno bisogno dei propri osservatori. Arrivare prima su un calciatore è fondamentale. Quindi capite ci sono diversi modi per lavorare da osservatore. Nel momento in cui vi sto parlando sono in contatto con un'agenzia che è interessata al mio lavoro, che apprezza quello che faccio, alla quale potrei tornare utile. Incrociamo le dita. Insomma questo è un mondo che come avrete capito è pieno pieno di variabili. Ce ne sono ancora tantissime delle quali non vi ho nemmeno parlato. I contatti sono importanti e mi rendo conto che anche in questo mondo c'è tanta gente che vuole fregarti. Io per esempio ero vicinissimo a firmare due contratti in realtà per iniziare la mia esperienza d'osservatore calcistico ma con una realtà le cose non sono andate perché le modifiche che richiedevo non erano accettate. Per quanto riguarda invece l'altra realtà mi sono state chieste delle segnalazioni. Io ho segnalato dei calciatori, volevo farmi vedere preparato, volevo farmi vedere pronto. Ho dimostrato di essere pronto e preparato ma questa agenzia ha preso le mie segnalazioni e poi non si è fatta più sentire scappando e prendendosi appunto le mie segnalazioni. Quindi questo è un mondo complicato dove bisognerà sbattere la testa su tante cose, su tanti tronchi di albero, però sono tutte cose che alla fine lavorativamente parlando ti fanno crescere. Non fatevi intimorire da questo mio discorso finale. Purtroppo ovunque ci sarà chi vi vuole fregare. Ma se dentro di voi brucia la passione per questo sport, l'osservatore calcistico potrebbe fare al caso vostro. Ma attenzione ragazzi, non focalizzatevi solamente su una professione perché in realtà quella che potrebbe fare al caso vostro potrebbe essere dietro l'angolo. All'interno del mondo del calcio ci sono tantissime opportunità di lavoro. Potreste diventare dei data analyst, potreste diventare dei match analyst, potreste addirittura diventare dei direttori sportivi o dei procuratori. Insomma, informatevi bene, siate curiosi, studiate. Anche perché se siete appassionati di calcio lo studio di questo argomento non vi peserà. Questa prima parte, molto introduttiva, non sono andato nello specifico, sono rimasto abbastanza in superficie per quanto riguarda la professione dello scouting, finisce qui. Ma come sempre mi trovate nei commenti. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda che avete, mi raccomando scrivetemela nella sezione dedicata. E chissà, magari un giorno quando avrò l'esperienza giusta vi porterò anche un mio corso da osservatore calcistico. Vi ricordo nuovamente di non sottovalutare l'aspetto fiscale perché in caso vogliate lavorare come libero professionista in questo mondo vi servirà assolutamente una partita IVA. Quindi mi raccomando, controllate la descrizione perché trovate il link per FiscoZen che vi fornisce una consulenza gratuita dedicata alla vostra situazione fiscale. E soprattutto può alleggerirvi da diverse pressioni che il libero professionista inevitabilmente ha. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, approfittatene e ricordatevi che avete anche 50 euro di sconto in caso vogliate affidare la vostra situazione fiscale ai commercialisti di FiscoZen. Noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da me e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.